Ritorniamo in diretta, in Voce delle Chiese, continuiamo il nostro viaggio. Come accennato prima, si avvicina la data del 7 di febbraio, giornata mondiale contro il bullismo, il cyberbullismo. Più che contro, mettendolo in modo propositivo, di sensibilizzazione e di attenzione, cercando di non abbandonare mai l'attenzione su un tema che, come dicevamo, non è scomparso, ma anzi si modifica, l'avvento e l'utilizzo delle tecnologie modifica queste situazioni in cui si possono trovare molti ragazzi, molte ragazze nella fascia adolescenziale, non solo, i dati purtroppo parlano di età sempre più basse, di bambini, bambine che purtroppo incappano o come protagonisti o come persone che assistono a episodi di bullismo o appunto di cyberbullismo. Per parlarne in questa settimana abbiamo contattato una serie di realtà che su questa tematica lavorano e che hanno anche ricevuto finanziamenti da parte dell'Otto per Mille delle nostre chiese valdesi e metodiste. Una di queste realtà è quella che presento subito, ovvero l'Associazione Sportiva Dilettantistica Al Ponte e abbiamo con noi Maurizio Germano, insegnante di arti marziali, mediatore in bullismo e cyberbullismo. Buongiorno Maurizio, benvenuto su Radio Beckwith. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, prima di tutto. Grazie a te, grazie a te davvero. È un piacere. A me non era ancora mai capitato di leggere, di trovare ecco una azione di sensibilizzazione che passasse attraverso l'utilizzo delle arti marziali, cosa che invece voi fate. Come mi dicevi prima fuori onda, una tecnica allo stesso tempo antica ma anche innovativa. Ecco, come si concretizza il vostro approccio innovativo che prevede il coinvolgimento anche delle arti marziali? Cosa fate voi Maurizio? Allora noi in realtà pratichiamo, cioè utilizziamo l'etica e la metodologia delle arti marziali per educare giovani e adulti anche alla prevenzione e ma anche ad affrontare quelle che sono le problematiche legate sia al bullismo fisico sia al bullismo nel mondo digitale, il cyberbullismo. Quindi fondamentalmente abbiamo delle metodologie che sono storicamente molto radicate perché il metodo delle arti marziali è utilizzato da tutti i popoli della terra per educare le persone a conoscere se stesse, a diventare più efficienti nel contesto in cui vivono e a saper affrontare le criticità nel momento del bisogno. Quindi l'aspetto fondamentale forse che bisogna comprendere di queste discipline è che prima di tutto sono discipline che hanno un forte carattere educativo. In questo concetto di educazione poi c'è anche il concetto di saper affrontare in maniera operativa, efficace, quella che può essere una difficoltà. La nostra capacità, grazie a varie discipline che noi pratichiamo, è stata quella di portare questa metodologia non solo nel mondo fisico, dove educhiamo i giovani a conoscere se stessi, a imparare a interagire con gli altri in maniera adeguata, ma anche nel mondo digitale, a imparare come funziona il mondo digitale e come rispondere in maniera efficace ed adeguata ad un'aggressione nel mondo digitale. Quella che oggi comunemente viene chiamata cyberbullismo, ma in realtà il fenomeno è molto più ampio perché dentro la parola cyberbullismo, che spesso è utilizzata anche in maniera un po' inappropriata, ci sono vari fenomeni che vanno da quello che è il vero e proprio reato, come radescamento, come edificazione al suicidio, fino a poi quello che è il cyberbullismo, ovvero l'aggressione tra pari. Certo, sì sì, il cyberbullismo è una definizione complessiva, a volte appunto poco attenta, forse anche delle varie differenze che ci possono essere. L'idea, quella di partire dalla consapevolezza di sé, anche delle proprie capacità direi, perché poi insomma credo che le arti marziali insegnino anche molto sullo sviluppare le proprie capacità che magari neanche immaginiamo di poter avere e di poter mettere in campo. Quindi partire da una base di rispetto, di conoscenza di sé, di condivisione, di un approccio giusto, corretto alla relazione con l'altro, però anche laddove poi si presenti il fenomeno la capacità di tutelarsi e quindi di mettere in pratica quello che abbiamo imparato, giusto? Assolutamente sì, in realtà qualunque fenomeno di aggressione comporta ovviamente prima di tutto la paura e la paura è un'emozione primaria molto molto potente che è fondamentale nella nostra esistenza che però a volte ci fa fare degli errori. Per cui conoscere se stessi, saper gestire le proprie emozioni, conoscere l'aggressione come funziona, il contesto, l'ambito dove si sviluppa è per noi un passaggio obbligato per far sì che il bambino, l'adulto o chiunque insomma possa sia nel mondo fisico dove vive la propria esistenza, sia nel mondo digitale possa gestire adeguatamente se stesso gli strumenti che possiede per poter poi anche riconoscere quella che è un'aggressione e saperla affrontare efficacemente. Qui l'aspetto interessante delle arti marziali quindi che da un lato ci permettono di conoscerci dall'altro però ci forniscono degli strumenti cioè nel mondo fisico io posso bloccare un aggressore, posso evitare un'aggressione anche nel mondo digitale se io riconosco che ad esempio una persona che mi ha chiesto l'amicizia in realtà è una falsa identità quindi ha un profilo falso per me di entrare molto semplice evitare di cadere in una in una trappola quindi l'arte marziale ci insegna lo zanshintec in questo caso l'arte marziale digitale che utilizziamo ci insegna a riconoscere una falsa identità nel digitale per cui la tecnica è quella diciamo un'introduzione alla cyber security molto molto semplice alla portata di tutti considerano insegniamo ai bambini di quinta elementare però poi la cosa importante è l'etica e il comportamento riconosciuto un aggressore io so dove fermarmi so che non devo dargli confidenza so che posso fare delle azioni che mi mettono in sicurezza ma non vado oltre non divento aggressivo e questo poi è la parte più importante certo questo è molto importante ecco mi viene da pensare però Maurizio che per riuscire ad insegnare ovviamente tutte queste metodologie anche voi siete diventati avete fatto un formazione siete diventati esperti appunto i mediatori di bullismo e cyberbullismo qual è stato un po' il percorso che avete fatto come vi siete approcciati anche a questo apprendimento da parte vostra allora la nostra quella dei mediatori in cyberbullismo e bullismo è un'equip multidisciplinare molto ampia accoglie psicologi pedagogisti insegnanti di arti marziali ci sono anche esponenti delle forze dell'ordine che hanno fatto i corsi con noi questo perché per poter affrontare un ambito così ampio servono varie competenze il punto di riferimento che abbiamo quello che ci accomuna appunto è la formazione come mediatore in cyberbullismo e bullismo che dà ad ognuno di noi la capacità di avere intanto un linguaggio comune dei riferimenti metodologici comuni tra tutti e poi soprattutto sappiamo che all'interno di queste dinamiche possiamo fare affidamento su competenze diverse ci sono esperti informatici che intervengono al momento giusto quando c'è bisogno di aiutare qualcuno ci sono invece poi c'è un ampio diciamo ramo che si occupa della prevenzione che va ad esempio a lavorare nelle scuole che insegna ai bambini agli adulti noi lavoriamo dalla prima elementare fino al quinto superiore e lavoriamo con i docenti scolastici proprio perché siamo convinti come mediatore in cyberbullismo e bullismo che la prevenzione e l'educazione sia l'unico modo per affrontare questo tema e in questo ringrazio Chiesa Valdese che ci ha dato un fortissimo aiuto immaginate che lavorare in una scuola per noi vuol dire fare 6-8 classi in un istituto con 25 ragazzi e grazie a Chiesa Valdese siamo riusciti a lavorare in 5-6 istituti diversi migliaia di ragazzi esatto migliaia di ragazzi formati con le nostre metodologie e di docenti come dicevi giustamente e di docenti dicevi giustamente perché poi a ruoto ovviamente anche la parte adulta della scuola cioè i docenti, gli insegnanti, i professori, i professoresse devono far parte che non possono essere tenuti al di fuori di questo percorso assolutamente la collaborazione con i docenti e i genitori per noi è assolutamente fondamentale in realtà sono proprio i docenti i più entusiasti di questo lavoro perché negli ultimi anni si è fatto una grande opera di conoscenza intorno al cyberbullismo e il bullismo di fatto però è sempre rimasta una domanda importante se succede a me cosa devo fare, come devo comportarmi noi portiamo questo come bagaglio in più cioè insegniamo a chiunque a sapere agire adeguatamente di fronte ad esempio a un tentativo di adescamento a un'aggressione che avviene in un gruppo social tra ragazzi a uno scambio di messaggi ad esempio anche il tema del sexting lo affrontiamo in maniera da dare sempre delle risorse importanti a chi purtroppo e i casi sono sempre molto numerosi si trova ad avere questo problema insomma ci sarebbe da parlare per delle ore di queste iniziative di questi progetti, di questi percorsi che poi ovviamente sono tutti percorsi in fase di modifica perché appunto di anno in anno ci sono novità nell'ambito anche solo della rete, della tecnologia e queste novità bisogna saperle conoscere, gestire bisogna appunto non temere di approfondirle perché solo così in effetti si riesce a tamponare a evitare, a risolvere là dove è possibile il progetto peraltro si può anche i progetti che portate avanti si possono trovare sul vostro sito ilponteroma.it questo è il sito appunto dell'associazione sportiva dilettantistica Il Ponte fate veramente tantissime cose ho dato uno sguardo ci sono anche dei bei video insomma che avete realizzato esemplificativi proprio del vostro percorso e quindi non ci resta che augurarvi una buona continuazione insomma in queste vostre attività Maurizio grazie infinite speriamo di riuscire a far conoscere queste nuove metodologie a più persone possibili proprio per dare un piccolo contributo per risolvere questi problemi che poi effettivamente sono davvero importanti grazie, grazie ancora per essere stato con noi buon lavoro a te a tutta la tua ai tuoi colleghi insomma l'equip che lavora con te è un lavoro importante quello che portate avanti con i giovani e con le giovani delle nostre scuole e di conseguenza insomma anche con la società grazie Maurizio buona continuazione buona giornata ciao grazie infinite buona giornata